Lo stile shabby chic è uno stile di arredamento che si ispira all'eleganza del passato, ma con un tocco di romanticismo e di trascuratezza. I mobili e gli accessori shabby chic sono spesso di recupero, con segni del tempo e della storia che li rendono unici. I colori predominanti dello stile shabby chic sono i pastelli, come il bianco, il rosa, il celeste e il giallo. E anche il verde, il verdino quello chiaro, e le superfici sono spesso opache e rovide per creare un effetto vissuto. Lo stile shabby chic è perfetto per creare un'atmosfera accogliente e romantica. Si adatta a qualsiasi tipo di ambiente, dalla cucina al soggiorno, dalla camera da letto alla sala da pranzo. Ecco alcuni elementi caratteristici dello stile shabby chic. I mobili, in stile shabby, sono spesso in legno, soprattutto in legno massello. I mobili di recupero sono particolarmente apprezzati perché hanno una storia da raccontare. I colori pastello sono i colori predominanti dello stile shabby chic. Il bianco è il colore più comune, ma si possono utilizzare anche altri colori pastello, come il rosa, il celeste, il giallo o il verde. Le superfici dei mobili e degli accessori shabby chic sono spesso opache e rovide. Questo crea un effetto vissuto e romantico. Le decorazioni floreali sono molto utilizzate nello stile shabby chic. I fiori possono essere presenti sui tessuti, sugli accessori e sui mobili. I fiori possono essere presenti sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti. I fiori possono essere presenti sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti. I fiori possono essere presenti sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti. I fiori possono essere presenti sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti, sui tessuti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.